Ciao a tutti ragazzi, sono Gabri Costa. In questo videogioco Spider-Man Miles Morales dobbiamo fare un altro crimine adesso. Faremo traffico di armi. Qui ci sono dei tizi che vendono armi. Traffico di armi in corso? Possiamo controllare l'app più spesso. Ma perché traffico di armi in corso? Io non lo so. Andiamo a scoprirlo insieme. Ricordatevi che per svolgere un crimine voi dovete raggiungere il segnale. È un punto rosso. Quando c'è quel puntino rosso dovete raggiungerlo. Mi piacciono questi videogiochi quando ci sono le tappe olorate. Fa riordare Sly Cooper. Dobbiamo sconfiggere i criminali, capite? Ricordatevi gli obiettivi bonus. Dovete eliminare furtivamente tre nemici ed eseguire una combo per dieci. E se vi trovate nemici troppo grossi, bloccateli con le vostre ragnatele premendo ripetutamente il tasto R1. Venite qua criminali, dobbiamo riempirli di botte e conciarli per le feste. Se state perdendo salute, premete il tasto direzionale giù per recuperarla. Non dimenticatevi l'abilità Venom. Si può premere L1 più quadrato per l'abilità Venom. Ora ditemi se abbiamo belle già finito. No, nessuno ti aiuterà. Bene, Gabriele Osta a questo punto vi saluta. Abbiamo finito anche quest'altro crimine. Io sono onesto. Se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.